Approvato dalla Commissione Consigliare Competente un regolamento abbastanza innovativo, quello che mette assieme acconciatori, centri estetici, ma anche tatuatori e coloro che fanno piercing. Una delle novità più importanti è quella che due acconciatori potranno lavorare nello stesso locale, nel senso che uno può affittare una postazione all'altro. Sì esatto, è un regolamento nuovo, innovativo, veloce e che guarda alla possibilità di fare impresa anche con due soggetti diversi nello stesso esercizio. Praticamente abbiamo inserito in questo regolamento una circolare del 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede per gli acconciatori il contratto di affitto di una poltrone per i centri estetici di cabine. In questo modo ci sarà, lo abbiamo chiamato il co-working tra imprese simili tra di loro. La novità sta nel fatto che queste persone non saranno a carico, quindi non saranno dei dipendenti, avranno una loro partita IVA diversa, avranno la possibilità di poter emettere scontrini fiscali o ricevute fiscali separate. Ovviamente la condizione è che nella scia, quindi nella segnalazione certificata di iniziatività, venga allegato un normalissimo e semplicissimo contratto di affitto tra privati. In pratica è anche un modo per combattere il sommerso, per far sì che chi non ha la possibilità di avere un locale dove effettuare l'attività possa trovare un'altra sede. Sì, sicuramente questo è un aspetto che abbraccia il fenomeno. Perché ieri in consiglio abbiamo detto che non tutti hanno la possibilità di poter aprire un esercizio, ma probabilmente ci sarà la possibilità di poter affittare una poltrona. Intanto ci sono anche delle novità dal punto di vista urbanistico. Perché per far rivivere il centro storico, con il parere dell'ASP, avete ottenuto la possibilità di aprire le attività anche se il tetto è più basso della misura solitamente richiesta. Un obiettivo tecnico che abbiamo raggiunto assieme all'ASP, promosso appunto dalla terza commissione, quello di recuperare le abitazioni, i pianeti terra, gli ammezzati nei centri storici, portando l'altezza massima a 2,50, previo però maggiorare le aperture finestrate, ovvero oppure in sostituzione effettuare, diciamo, installare degli aspiratori d'aria, eccetera. Questo è una cosa molto importante perché recupererà certamente i centri storici, il nostro centro storico che, come sappiamo, è molto abbandonato. Un altro aspetto tecnico in questo regolamento che intendo sottolineare è quello che abbiamo accorpato in un unico regolamento, acconciatori e barbieri e trattatori, tutto in un unico regolamento, molto semplice e molto consultabile, in quanto abbiamo selezionato tutta una serie di aspetti tecnici che erano distribuiti in vari articoli dei vari regolamenti e abbiamo fatto un'unica tabella che chiamiamo allegato A che contiene tutti i requisiti tecnici dei locali che sono adibiti. Quindi i tecnici, i colleghi, i libri professionisti, nel presentare una scia avranno un unico documento consultabile facilmente e quindi tutte le norme tecniche contenute in quel documento. Tra l'altro c'è un aspetto sociale importante perché gli acconciatori che aderiranno, che rispetteranno questo nuovo regolamento potranno donare i capelli che è un segno importante nei confronti di chi ha bisogno. Sì, abbiamo voluto fortemente in questo regolamento coinvolgere l'aspetto sociale che investe il taglio del capello. Da lì il Comune provvederà a istituire un'alba a tutti gli acconciatori che si vorranno iscrivere, cosa che già comunque avviene ad Alcamo, l'abbiamo voluta in qualche modo ufficializzare e supportare. Da quest'alba le associazioni di volontariato potranno recarsi degli acconciatori che abbracciano questa iniziativa e spiegare le modalità con cui si taglia il capello. Si tratta per poter poi essere trasformato in parrucchi di capelli veri per i soggetti oncologici. Un'altra battuta politica, consigliere Stabile, talvolta la politica si divide, voi siete rappresentanti di maggioranza e opposizione, però insomma come l'esempio di questo regolamento, magari anche di altre cose, vi trovate in commissione a collaborare e non a innalzare steccati. Sì, lei ha colto un aspetto molto importante, direttore, che è quello della collaborazione trasversale. E non è né un inciucio né uno scandalo. Quando si tratta di effettuare interventi per la città che interessano i cittadini che lavorano, la politica deve mettersi al servizio senza gli steccati di cui lei parlava. Ciascuno mettendo a disposizione il suo sapere, le sue competenze, a disposizione della città, non del partito, non della politica. Questo a mio avviso è il vero consigliere comunale, del vero politico che si spende per la città in maniera assolutamente trasversale.